Contro il Latina, mister De Sanso decide di affingare in attacco al soldo De Sena Sané. Il primo, al 34esimo, sul lancio dalla propria trequarta di capitano Uliano, dribla un avversario, tira ed il portiere avversario Tonti le spinge in angolo. Il secondo, all'85esimo, riceve palla al limite dell'area, si libera di un difensore ma Tonti anche in questa occasione è attento e devia il tiro dell'attaccante. Kiri Matenga, entrato in campo al 65esimo in sostituzione di Savini, schierato non come al solito in attacco ma come esterno del centrocampo a 5, al 78esimo prova il tiro dei 20 metri. Nessun problema per Tonti che blocca la palla in due tempi. Da segnalare anche un colpo di testa del difensore Honda nel finale su un bel cross di Citarella, con la palla però spedita sul fondo. Tutto qua. E ci sono state alcune partite, come quella di domenica scorsa contro la Viterbese, penultima in classifica, dove le azioni create sono state addirittura di meno rispetto a questa sfida. Meglio non aggiungere più nulla. Quale sia il problema della squadra è chiaro già da un bel po' di tempo a tutti. Se poi capita che la difesa, come è successo oggi, non sia impeccabile e precisa come nella maggior parte delle partite, allora possiamo dire che è un punto guadagnato e non due persi. Sì, perché i nerazzurri si sono resi pericolosi più volte. Al 32esimo Carissoni si fa respingere il tiro da D'Agostino. Quattro minuti dopo Riccardi spreca clamorosamente una palla di testa che doveva solo appoggiare il rete. Sprega anche Carletti al 44esimo, in un'azione di contropiede che si conclude con un suo tiro d'ottima posizione che finisce fuori. All'82esimo invece Barberini a non sfruttare un'incertezza di D'Agostino ed a calciare alto. Finisce così. È il terzo 0-0 consecutivo per la Jelbson.